Grazie a tutti. Grazie Presidente. Parliamo della variante alla strada statale 219 detta della Pian d'Assino e ne parliamo sia con riferimento alla ripresa dei lavori, in particolare faccio riferimento al tratto che dovrebbe essere in qualche modo concluso anche se i lavori sono appena iniziati, che è quello che va da Mocaiana al bivio di Petralunga, e faccio riferimento al pacchetto di interventi che l'ingegner Celia in una recente audizione in prima e seconda commissione ha annunciato per quanto riguarda la messa in sicurezza del tratto che va da Padule a Branca. Allora, per quanto riguarda la ripresa dei lavori, Assessore, so che la settimana scorsa ci doveva essere una commissione a Roma con riferimento al parere per quanto riguarda la soggettabilità a via. Credo che questa commissione ci sia stata, adesso spero che lei ci possa dare informazioni più precise, ci sia stata e abbia dato parere positivo. Questo significa che la delibera andrà in pubblicazione e spero per la metà di aprile diventerà esecutiva e quindi potranno essere ripresi i lavori. Per quanto riguarda invece il pacchetto degli interventi che l'ingegner Celia ci aveva preannunciato, e mi riferisco alla sistemazione del manto stradale sconnesso lungo il tratto Padule-Branca, mi riferisco ai sensori per evitare sorpassi azzardati, mi riferisco all'installazione di tutor per il controllo della velocità, a pannelli luminosi in via precauzionale al fine di avvertire gli automobilisti del fatto che la strada è a due corsie e che ci sono dei limiti di velocità pari a 70 o a 90 a secondo del tratto. Mi riferisco all'installazione di barriere non impattanti per evitare l'attraversamento della fauna selvatica nel tratto dove c'è una riserva, ossia da Torre a Branca. Ora, ecco, di questi interventi, dopo che l'ingegner Celia in Commissione li aveva preannunciati, non c'è ancora traccia. So che c'è stato anche un comitato per la sicurezza che in qualche modo ne ha parlato, quindi vorrei capire da lei su questi due punti se vi sono novità e soprattutto se vi sono novità positive. Grazie. Prego, Assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie Consigliere Smacchi. Come sappiamo questa, diciamo così, vicenda del primo straccio del secondo lotto Mogagliano Umberti è una vicenda che si trascina un po' da tempo. Il progetto del primo straccio di importo di circa 56 milioni finanziato nel contratto di programma 2014 si sviluppa invariante alla statale esistente per una lunghezza complessiva di circa 3,7 chilometri e adotta una sezione di tipo C1. Attualmente sono in corso le attività di progettazione esecutiva da parte delle imprese a Collini, lavori e SPA che nell'aprile 2017 si è giudicata la procedura di gara per l'affidamento del progetto esecutivo e della realizzazione dei lavori di tale tratto. Non abbiamo ancora notizie ufficiali, Consigliere Smacchi, abbiamo anche noi, diciamo così, notizie di carattere informale ma non ufficiali rispetto a questa questione. La direzione ambiente della Regione dell'Umbria nel 2017 è rappresentato, come lei diceva, nella precedente iniziativa che aveva fatto addirittura prima di Natale, se non vado errato, i primi di dicembre, che essendo appunto tra scorsi cinque anni quella validità di quel provvedimento di compatibilità ambientale decadeva sostanzialmente o comunque non era più in essere, alla condizione solo che il Ministero accettasse e desse un parere, diciamo, positivo su questa questione. Le notizie informali le abbiamo anche noi che sostanzialmente il parere verrà dato presumibilmente, probabilmente positivo ma al momento non possiamo a questa verifica di assoggettabilità ma al momento non possiamo dirlo ufficialmente. ANAS ha comunque provveduto a, diciamo così, ad inviare addirittura a luglio del 2018 tutta la documentazione necessaria per questa procedura, fornendo tempestivamente tutte le integrazioni richieste nella fase istruttoria. Il Ministero ufficialmente ad oggi non si è sostanzialmente espresso e a fronte di questo l'appaltatore potrà adeguare il progetto esecutivo con il ricevimento di eventuali prescrizioni, che noi però riteniamo debbano esserci prescrizioni particolari, perché se quella assoggettabilità era stata ritenuta etonia, allora credo il progetto non è cambiato, dovrebbe essere lo stesso oggi. Il progetto esecutivo aggiornato eventualmente dovrà essere validato, approvato da ANAS, per procedere all'avvia dei lavori da parte dell'appaltatore. Da parte nostra c'è una sollecitazione informale costante su queste questioni. In merito alle altre questioni che sollecitava, quindi alla sistemazione del manto stradale, sono stati redati due progetti di manutenzione programmata. Il primo, già approvato, di circa un milione di euro, che prevede il risanamento della pavimentazione stradale, della strada statale 219, in tratti saltuari, incluso il tratto in questione, la cui carata appalto è di prossimo avvio, e pertanto i lavori, si prevede, possono essere avviati entro la fine di questo anno. Il secondo, di circa 1,7 milioni, riguarderà anche una serie di interventi lungo la strada in oggetto. Allo stato attuale, l'avvio dei lavori è legato alla definizione dell'aggiudicazione del relativo accordo 4, nell'ambito del quale risulta pendente un ricorso al TAR. ANAS sta valutando altresì l'installazione del nuovo sistema di rilevazione di velocità, questo è stato oggetto anche in commissione, se non vado errato, di confronto con l'ingegner Celia. Riguardo alla segnaletica verticale, sono in corsi i lavori di sostituzione della stessa, e con riferimento all'installazione di barriere non impattanti, utili ad evitare l'attraversamento della fauna selvatica, si precisa che in corso un'iter, anche con un'interlocuzione con la Regione, per affrontare e risolvere questo nostro problema. Quindi, sostanzialmente, rispetto a questa questione, siamo anche noi in attesa e sollecitiamo la risposta del Ministero per questa verifica di assoggettabilità, che noi riteniamo essere imminente, e alla luce della quale si potranno riavviare tutte le procedure per sbloccare questa questione, realizzare questa tratta, e quindi, diciamo così, dare vita, appunto, materializzare l'appalto che è stato fatto. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Smacchi. Grazie, Assessore. Mi sembra, quindi, di capire che ci siamo, sia per quanto riguarda il discorso della ripresa dei lavori, sia per quanto riguarda la procedura degli interventi per la messa in sicurezza. Fonti Anas, mi dicono, Assessore, come hanno detto a lei, che la delibera è stata presa e che, quindi, è in fase di pubblicazione. Questo ci dà e ci rassicura, perché questo significa che una volta passati i giorni necessari per la pubblicazione potrà essere redatto il progetto esecutivo con eventuali varianti e quindi, di fatto, la ripresa dei lavori entro il mese di aprile come, in qualche modo, era stato anticipato e programmato durante anche l'audizione che abbiamo fatto nel mese di gennaio. Per quanto riguarda, invece, la messa in sicurezza, mi sembra di capire, in base a quello che ci ha detto, che due sono le novità, ossia due progetti. Il primo progetto per il rifacimento del manto stradale per un milione di euro, che di fatto prevederà una gara e quindi, di fatto, entro l'anno verrà posto in essere il rifacimento. Non ho ben capito, invece, il secondo progetto, quando lei mi parla, di 1,7 milioni di euro. Ma quel progetto riguarda interventi per la messa in sicurezza? Ah, quindi, perché lei ha fatto riferimento ad un ricorso che non ho ben capito a che cosa... Mi scusi, Presidente, ma è una cosa solo per chiarire. Sì. Comunque, per la messa in sicurezza più complessiva. Quindi, e chiudo, un milione per il rifacimento e 1,7 milioni per un progetto più complessivo nella variante già eseguita per la messa in sicurezza. Grazie. Grazie.